Il ministero di Cristo è definito nella parola di Dio come il ministero della riconciliazione Lo pensiamo, fratelli e sorelle, chi eravamo? Lo pensi tu, anima cara, che ancora non hai accettato Gesù e te ne stai tranquillo Come sei distante dal tuo Dio e come non puoi godere della sua presenza A causa del tuo peccato, della tua condizione morale, della tua distanza da Dio Ma questa distanza è stata colmata in Cristo Gesù Vai a Gesù, puoi fare la tua preghiera Come Mosè pregò per il popolo, c'è qualcuno che alla destra di Dio il Padre intercede per la tua anima, per la tua vita Cercalo con tutto il cuore, invocalo ancora oggi E scoprirai che non solo puoi chiedere a Dio la manifestazione potente della sua presenza nella tua vita Chiara Forte, reale Non solo puoi chiedere questo Ma la puoi realizzare prontamente Perché Cristo Gesù è venuto per salvarti dalla terribile condanna, dal giudizio di Dio Ma la puoi realizzare prontamente Ma la puoi realizzare prontamente